Oggi parliamo di pistole Evolution. Calma. Ci concentreremo sulle Glock e sulle 1911. Visto che si avvicina l'estate e una pistola viene molto molto comoda e in generale utilizzare il gas è molto più divertente, abbiamo pensato di portare questo video interessantissimissimissimo. No, scherzi a parte, le pistole Evolution sono veramente molto valide e avevo voglia di parlarvene. Ovviamente prima di partire, sigla. Uffa, non so quale delle due prendere. Mi piace molto il modello Glock, ma anche la 1911 è veramente ottima. Se solo ci fosse qualcuno che potesse darmi dei consigli su quale modello prendere a seconda delle mie necessità. Beh, sei molto fortunato perché c'è Monopoly Soft Air Shop. Il vostro negozio di attrezzatura, soft air, airsoft, equipaggiamento militare, outdoor e tanto tanto altro di fiducia. Gestito da esperti del settore che giocano anche loro e che sanno sicuramente consigliarvi quello che fa al caso vostro. Per qualunque dubbio necessità, Monopoly Soft Air Shop. Queste sono le due 1911 prodotte da Evolution, cioè da dire che ce ne sono anche di altri colori. In particolare ho queste due perché una è la Special Operation completamente nera, l'altra invece è il modello Silver, quindi con le intarsiature ovviamente color argento. Il funzionamento è identico per entrambe, ci sono delle cose molto interessanti da dire. Adesso ve le spiego. Sia le 1911 che le Glock Evolution sono a Green Gas, quindi troviamo dei caricatori Green Gas. Chi di voi mi conosce da più tempo sa che io adoro le pistole che utilizzano il gas e lo preferisco altamente rispetto al CO2, il cui pregio principale è che sono un pochino più affidabili perché sparano sempre anche in inverno. Se volete sapere perché preferisco Green Gas rispetto al CO2 c'è un video dedicato che ve lo lascio linkato in descrizione. La prima cosa che colpisce è la qualità dei materiali di cui è composta questa replica perché a differenza di altri produttori che producono appunto pistole di questo tipo sulla stessa fascia di prezzo qui i materiali sono uno più alti, due tutti ben incastrati, non troviamo giochi strani, non troviamo delle robe che fanno intuire che la pistola sia low budget o comunque non tanto curata. Infatti ogni singolo componente è funzionante e ben posizionato. Partendo dalla cosa più chiara e semplice la sicura che è ovviamente funzionante. Sia la sicura meccanica che funge anche da poggia pollice volendo che quella ad impugnature entrambe sono funzionanti. Questo significa che se andiamo ad armare ovviamente il cane e non premiamo la sicura impugnatura questa non va a scattare e allo stesso modo se premiamo la sicura ad impugnature e la sicura meccanica e poggia pollice è inserita ovviamente non possiamo andare a sparare. Nel caso invece si vada ad abbassare la pistola spara. Queste pistole di evolution sono tutte a green gas, i caricatori sono abbastanza standard e hanno la valvola sulla parte inferiore quindi dovete andarli a caricare a testa in giù. Ovviamente il tasto di sgancio del carrello e il blocco del carrello sono presenti e il cane è ovviamente funzionante e abbattibile che significa che possiamo andarlo ad armare separatamente prima di andare a far fuoco. Altri due elementi che ho apprezzato parecchio sono il grilletto alleggerito rispetto a quello standard e le scanalature e la lavorazione del carrello su questo modello in particolare che permettono di andare a scarrellare in maniera più semplice sia dalla parte posteriore che dalla parte frontale. Ultimo punto molto importante le tacche di mira che sono fluorescenti questo significa che posso vederle quando c'è una situazione di bassa luminosità sia quelle posteriori che quelle anteriori. Ultima nota per gli smanettoni che amano il realismo come me troviamo ovviamente 45 acp tatuato serigrafato sull'otturatore della pistola ovviamente sia l'oghino evolution che adesso è un po' troppo luminoso non lo vedete e ovviamente il numero seriale della pistola. Altra cosa che sicuramente mi andrete a chiedere è questo tap rosso è semplicemente, mettilo a fuoco, è semplicemente per bellezza è proprio stampato in 3D, basta andare a piegarlo e questo si rimuove è semplicemente per la vendita o il trasporto. Ultima cosa molto importante prima di passare oltre è la presenza del rail sotto ovviamente la canna che permette di andare a montare torcia, laser o quello che vogliamo e permette di dare un look un pochino più nuovo a queste 1911 che altrimenti sarebbero un pochino vecchiotte mentre questi modelli sono stati ben svecchiati. Sul modello nero si vede molto meglio il loghino evolution e troviamo la filettatura per montare un silenziatore mentre sul silver non c'è. Molto interessanti queste 1911 però andiamo, diciamocelo chiaro le 1911 sono per gli intenditori, le Glock come sono venute? Perché lì ci sono dei competitors molto affamati partiamo col dire che le Glock evolution si fermano alla generazione 3 perché un altro produttore ha l'esclusiva per le Gen 4 e le Gen 5 quindi qui ci fermiamo alla Gen 3. Per me non è un gran problema perché come detto la qualità dei componenti, l'ergonomia generale di queste pistole è molto alta quindi comunque tendo a preferirle a modelli magari più nuovi prodotti da due per citarne uno. Un'altra cosa importante va detta piano in maniera un po' colorita è che sia le Glock che le 1911 sono prodotte da gli stessi produttori stessa fabbrica che produce anche le Gen 4 e le Gen 5 e qui mi fermo, chi ha capito ha capito. Ad ogni modo queste Glock come sono fatte? Bene ragazzi, bene per un semplice motivo non balla niente, ok? Non balla niente, è un blocco solido che anche scuotendolo sentite? non fa un rumore, non c'è un gioco, un rumore. Partendo dal caricatore, ovviamente Green Gas come detto, valvola nella parte posteriore sempre da 22 colpi mi piace il materiale perché è opaco ed è leggermente satinato. Questo significa che quando lo andate a prendere per inserirlo all'interno della pistola o lo dovete rimuovere vi scappa via molto meno facilmente tra l'altro mi sembra che si vada a rovinare molto meno a forza di inserirlo e toglierlo. Questo è il modello ovviamente Coyote troviamo il fusto in polimero della pistola ovviamente TAN, Coyote, chiamatelo come volete poi il carrello ovviamente in metallo nero. Piccola cosa importante Evolution produce queste Glock in tre modelli diversi un modello full metal un modello metallo polimero e un modello completamente in polimero plastica polimero noi quelli in modello plastica polimero preferiamo non trattarli perché sono molto economici rimangono comunque di alta qualità però visto che la differenza di prezzo con un modello polimero metallo è irrisoria tra le due preferiamo trattare un modello un pochino più di alta qualità e che offre prestazioni migliori. Tornando a parlare della pistola troviamo ovviamente il loghino Evolution stampato dove ci sarebbe la G di Glock che tra l'altro ci sta bene cioè sembra quasi voluto e pensato per essere messo lì e lo troviamo anche sullo sportellino di edizione dei bossoli della pistola l'otturatore insomma come detto anche senza caricatore è estremamente solida la cosa mi piace veramente tanto e tra l'altro se proprio devo spezzare una lancia a favore di questa pistola e sì mi va l'impugnatura generazione 3 è veramente ben fatta sia per il polimero di cui è fatta sia per il colore che per una volta non sembra cacca di gabbiano lasciata al sole perché raramente ho trovato un fusto delle Glock che è veramente tanne non è di un altro tipo di colore slavato quindi veramente molto bravi. Sul carrello non è che c'è molto da dire troviamo ovviamente le scanalature che permettono di andare a armare più facilmente la pistola ovviamente non troviamo il cane a vista perché nelle Glock è interno e le tacche di mira sono quelle tipiche della Gen 3 quindi troviamo questa U bianca posteriore e la tacca di mira frontale singola col pallino. Per quanto riguarda lo scatto è veramente ben fatto abbastanza leggero e ovviamente grazie alla sicura a grilletto se questo viene premuto lateralmente non scatta ma dobbiamo premerlo completamente. Insomma un prodotto a mio avviso ben riuscito soprattutto grazie alla colorazione e alla qualità dei prodotti perché come detto sono di alta qualità ah ovviamente come per le 1911 questo tappo rosso si può rimuovere. Questo come detto è il modello polimero metallo con fusto completamente tanne vediamo la sorellina che sorellina poi. Ovviamente i prodotti Evolution non si chiamano come il modello originale in particolare le Glock 17 vengono chiamate E017 e 1911 e 1911 in questo caso questa è una E017 Warrior vediamo le differenze un po' come i modelli tattical di altri produttori troviamo un po' di accortezze per gli smanettoni più pazzerelli intanto troviamo una gonnellina che va ad ampliare il ricevitore dei caricatori quindi possiamo andare a inserire il caricatore in maniera più semplice maggiori scanalature sul carrello per poter andare ad armare la pistola sia sulla parte posteriore che sulla parte frontale e poi le tacche di mira a questo giro uguali a quelle catari frangenti fluo che trovavamo sulla E1911 e ovviamente le due posteriori con i pallini e la singola frontale qui davanti sappiate che io personalmente mi trovo molto meglio quando ho le tacche di mira con i pallini al posto che con la U tipica della Glock che vi ho fatto vedere prima questa è una mia preferenza in generale avere delle tacche di mira fluo siano queste solo con i pallini o in fibra ottica è meglio perché già entrare in puntamento con le pistole è più difficile se poi andiamo a complicare ulteriormente la cosa insomma non ne giova nessuno lo so cosa volete sapere come sono gli interni di queste pistole qui ci sono due considerazioni da fare punto numero uno né le 1911 né le Glock hanno la possibilità di andare a regolare le PAP esternamente quindi dobbiamo sempre andare a smontare il carrello regolare lo PAP a mano e andare a rimontare questo nelle Glock avviene normalmente come sugli altri modelli dobbiamo rimuovere il caricatore e tenendo giù questi due dentini muoviamo avanti indietro il carrello che si va a staccare dal fusto della pistola e possiamo andare a regolare lo PAP la stessa cosa non vale però per le 1911 qui il sistema è un pochino più macchinoso dobbiamo rimuovere il caricatore che qui è già tolto quindi non serve portare indietro il carrello e andare a svitare l'asta che è posta sotto la canna esterna della pistola quindi dobbiamo girarla svitarla su se stessa e poi andare a rimuovere questo componente qui per smontare questo è veramente molto macchinoso a mio avviso ma il ma che sto per dire è semplicemente che queste pistole sono ovviamente economiche è impossibile pretendere dei sistemi di regolazione dello PAP pari a pistole come la Peter 120 la Maxim 9 o anche Glock 17 della Humarex che tra l'altro non sempre hanno la regolazione dello PAP esterno ma che offrono queste features perché ci lasciate dietro 100-150 euro in più infatti come interni queste pistole sono molto buone dal punto di vista di resistenza dei materiali perché sono fatte di ottimo materiale alluminio e metallo ma come componentistica vedi o PAP canne di precisione non troviamo nulla una aggiunta che avremmo preferito ci fosse era per esempio su alcuni modelli un gommino Maple Leaf che invece non c'è c'è da dire che il prezzo a cui vi verrebbe venduta non è 17 special per dire con un gommino Maple Leaf dentro è più o meno lo stesso costo che c'è nel comprare questa pistola così e fargli montare un gommino Maple Leaf perché ci vuole veramente 0,5 secondi e il costo li è speravi che te la mettessi qui la prova di tiro ma no le prove di tiro le trovate ovviamente su Instagram vi tocca venirci a seguire proprio là la trovate già pubblicata quando è uscito questo video quindi finitelo e poi dopo venite a dare un'occhiata alla prova di tiro ma visto che vi ho preso in giro e qualcuno di voi ci potrebbe rimanere male vi do un ultimo importantissimo elemento da prendere in considerazione se vi interessano queste pistole ovvero che vengono già fornite con la loro scatola porta pistola e non è neanche una scatola a casa sono quelle prodotte da Negrini che per chi non lo sapesse sono gli stessi produttori delle custodie rigide per armi da fuoco vere quindi forse qualcosina ne capiscono e sono quelle standard quindi avete i due blocchi push pull dentro trovate la schiuma morbida e le istruzioni per la pistola questa non è una roba da dare per scontata perché ovviamente se dovete trasportare la pistola vi serve questa cosa qua ed è inclusa all'interno della pistola che è già low cost di per sé quindi hanno pensato veramente all'utilizzatore cosa che fa molto piacere a mio avviso non ho molto da dire nelle conclusioni finali perché sostanzialmente queste pistole fanno esattamente quello che ci si aspetta da loro sparano bene sono fatte di ottimi materiali e costano poco esattamente quello che mi chiedono l'ottanta per cento di quelli che giocano da poco stanno cominciando o magari giocano da un po' e usano poco la pistola quindi questi prodotti vanno a sfamare perfettamente le richieste che abbiamo visto e continuiamo a vedere all'interno del mercato dell'airsoft non è una novità che Evolution butti fuori dei prodotti che sono perfetti per chi gioca soft air in Italia soprattutto perché ricordiamo che sono prodotti pensati per il nostro mercato e non prodotti pensati per mercati esteri adattati al nostro mercato dove ci sono delle potenti e delle relazioni diverse quindi abbiamo già un vantaggio in più lì in più sono fatte di ottimi materiali e sono molto resistenti ci piacerebbe sapere la vostra se questo è un tipo di prodotti che vi interessano se preferite andare su altri modelli insomma cosa ne pensate fatecelo sapere ovviamente nei commenti io vi ricordo che siamo al monopoli soft air shop ovviamente che se volete acquistare questi incredibili prodotti li trovate linkati in descrizione e potete andare ad acquistare questi e tanti altri prodotti direttamente dal nostro online shop noi siamo situati in negozio fisico a Reggio Emilia se volete venirci a trovare e soprattutto a proposito di venirci a trovare vi ricordo di passare sui nostri social Instagram sia mio che del negozio e soprattutto TikTok che apparentemente è la nuova moda del momento da un tot di momenti in passato vi ricordo inoltre il canale secondario dove escono un sacco di video che parlano del mondo tattico a 360 gradi alcuni sono stupidi alcuni sono molto seri insomma fateci un salto perché potete trovare ulteriore contenuto detto ciò io ho finito veramente vi auguro un ottimo sabato un incredibile weekend e come al solito stay angry e come al solito